ciao carissimo benvenuto nel mio laboratorio un po' improvvisato perché mi sono trasferito di casa da poco quindi tornio macchina fenomenale incudine il fulcro del lavoro alcuni piatti fatti che se ne andranno negli states la prossima settimana 7 con questa incredibile adesso ce l'andiamo un po' a provare e a vedere cosa ci dice